lo sport in collaborazione con un'ondata di freddo intenso è arrivata sotto in queste ore neve copiosa al nord perature gelide a causa del forte vento che per tutta la giornata temporali hanno sferzato gran parte dell'italia una notizia bella mai stufe pellet made in citrea a casa tua arriva il caldo buono ma grazie citrea produciamo direttamente pellet e stufe di altissima qualità ad alessandria siamo in via giordano bruno 168 citrea scalda arreda e ti fa risparmiare allora ragazzi oggi questi tre minuti sono un po particolari perché io sono in studio in studio da dove trasmetto quotidianamente però in studio ho insieme piero pietro ragone pensate ragazzi un già un campione di carte quanti anni hai pietro 12 12 anni pensate lui ha affrontato questa questa gara diciamo ha vinto sei arrivato quarto eccolo lì la coppa vedete facciamola vedere perché non è fuori quella qui la coppa il suo orgoglio quando quando ha preso questa coppa qui era contentissimo allora pietro dimmi un po da quanto è che 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 sali su questi carte dimmelo dimmelo dall'età di sei anni dall'età di sei anni ragazzi dall'età di sei anni ha fatto tanto allenamento coi sacrifici dei genitori per arrivare a questo premio che l'hai preso dove sei arrivato quarto in che gara all'internazionale final rock up international final cioè il mondiale su 100 piloti io sono partito primo alla finale e sono arrivato quarto ecco poi molta gente di voi dirà eh sì ma saranno stati in cinque quanti eravate di 100 100 e i tuoi genitori da distante quando tu fai questa gara cosa fanno gridano ti ti aiutano ti danno forza mio papà si fu come dieci sigarette a gara mia mamma pure che velocità raggiungete 123 in una pista raggiunto ecco 123 chilometri su un gogart partiamo da qui scaldiamo le gomme diciamo le formation lap e poi è la penultima curva acceleriamo e quando passiamo il traguardo si può già combattere si può già sorpassare la prossima gara che hai pronta che hai che ti stai allenando per quella quale sarà forse la febbraio la winter cup ha sempre la su questa pista e infatti c'è la winter cup il trofeo d'estate il trofeo d'autunno e il trofeo di primavera grazie grazie per la tua partecipazione per la tua professionalità e poi molto preparato e con voi ci vediamo i prossimi tre minuti grazie lo sport in collaborazione con temperature gelide a causa del forte vento che per tutta la giornata violenti temporali hanno sferzato gran parte di una notizia bella mai stufe pellet made in citrea a casa tua arriva il caldo buono la precisione la cura dei dettagli la sicurezza e la qualità dei materiali sono i punti cardine dei nostri serramenti in pvc e alluminio gollo serramenti proteggi la tua casa e vivila con chi ami gollo serramenti 40 anni d'esperienza a silvano d'orpa e acquiterme boffa